Ciao a tutti, perché il narcisista non può amare? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, perché il narcisista non può amare? Le persone, alcune persone, hanno sempre la vana speranza. Se sono relazionati con un narcisista, hanno sempre la vana speranza che questo narcisista possa un giorno amarle. In realtà il narcisista non le potrà mai amare, non le potrà mai amare per diversi motivi. Il motivo principale è che il narcisista non può amare. L'amore, diciamo, è opaco agli occhi del narcisista, non è trasparente. Il narcisista non può amare perché non ha avuto possibilità nell'infanzia di sperimentare l'amore. Non ha avuto la possibilità di sperimentare l'amore perché noi possiamo vivere soltanto esperienze che abbiamo vissuto, non esperienze che non abbiamo vissuto. Tutta la nostra vita relativa, tra virgolette, è una vita che è una riproduzione dell'imprinting vissuto. E il narcisista non ha avuto un imprinting sull'amore. Il narcisista, potremmo dire, che è orfano d'amore. Può simulare di amare. I suoi sentimenti, però, sono molto diversi, molto lontani dall'amore. Perché non ha proprio imparato a farlo. Quindi, un narcisista per poter amare dovrebbe reimprintarsi, riviversi un imprinting dove piano piano imparare ad amare. Ma un qualcosa che noi non sappiamo che esiste, almeno che non sappiamo che esiste in quella forma, non andiamo a cercarlo. È come il pesce rosso che non sa che esiste l'oceano. Lui crede che tutto il mondo sia la boccia, diciamo così, dove gira. Per questo è il motivo. Cioè, certo, dovrebbe reimparare attraverso una sorta di imprinting, una capacità che va appresa. Però, se una persona non vuole fare una cosa, difficilmente andrà a farla. Questa è la motivazione per cui il narcisista, che gli piaccia o che non gli piaccia, insomma, non può amare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Telecita Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.